buongiorno a tutti benvenuti a questa conferenza stampa che anche un po forse l'ultima conferenza stampa dell'anno presentiamo i dati dell'accensimento popolazione residente dinamica demografica 20 21 e la terza la terza edizione dell'accensimento permanente della popolazione la quarta come sentirete poi in conferenza stampa è in pieno corso sta anzi forse alle battute finali la quinta chiedo scusa le battute conclusive i dati come dire sono del 2021 io aprirei con il presidente che poi dovrà lasciarci in corso la conferenza stampa perché deve prendere un treno per un'introduzione generale di questi dati che rilasciamo oggi è una prima lettura analitica prego presidente bene grazie e grazie buongiorno a tutti e benvenuti come sapete ormai il censimento è una ricorrenza annuale ogni anno abbiamo un nuovo una nuova fotografia della popolazione con le sue evoluzioni le sue caratteristiche quindi la possibilità di confrare di confrontare nel tempo i cambiamenti direi non dico in tempo reale per insomma in maniera particolarmente ravvicinata rispetto al passato oggi esce il censimento 2021 quindi in pratica la fotografia al 31 dicembre del 2021 e quali sono gli elementi più significativi intanto un dettaglio questo in qualche modo in un certo senso è 21 e 10 anni dopo quella dell'11 quindi in un certo senso è la popolazione legale che si aggiunge a quella di dieci anni fa perché c'era questa tradizione ogni dieci anni di definire appunto la popolazione di riferimento il di risultati 59 milioni di abitanti e cioè qui si certifica cosa che peraltro avevamo già anticipato con i dati di tipo di fontana grafica si anzi si certifica il fatto che siamo a 59 milioni quindi continua progressivamente la diminuzione rispetto al 31 dicembre dell'anno prima ci sono 206 mila unità in meno naturalmente come sempre questo deriva dalla composizione fra saldo naturale e saldo migratorio ma come tutti sapete il saldo naturale che è il punto veramente debole del sistema demografia del nostro paese è fortemente negativo e verosimilmente continuerà ad esserlo nel prossimo futuro dal punto di vista degli elementi di carattere qualitativo strutturale il censimento mette in evidenza c'è ovviamente la struttura per età e per sesso della popolazione sono i due elementi diciamo più immediati più significativi e naturalmente si conferma una leggera prevalenza femminile ma soprattutto si conferma il processo di invecchiamento della popolazione verso il quale costantemente stiamo muovendo e che si accentuerà verosimilmente nei prossimi anni in questo censimento abbiamo anche degli elementi come dire un po innovativo due cose che sono estremamente interessanti e importanti e cioè un bel affondo almeno già da questi dati sulla componente straniera componente straniera che viene appunto misurata e in qualche modo rettificata rispetto a quelle che erano le semplici risultanze anagrafiche attraverso i segnali di vita cioè questo un elemento metodologico importante cioè la possibilità non solo di andare a rilevare le persone facendo le interviste o quelle modalità classiche ma riuscire a integrare le informazioni che arrivano per quella via anche attraverso tutti quelli che sono i segnali normalmente di natura amministrativa che ciascuno di noi trasmette e che il sistema dei registri della statistica ufficiale coglie e quindi in qualche modo identifica e vale soprattutto per la componente straniera che talvolta è iscritto in anagrafe magari non c'è più quindi con questo sistema noi siamo in grado di cogliere effettivamente la situazione reale sul territorio due elementi ancora importanti sono il censimento relativo alle ai senza fissa dimora cioè persone che non hanno una diciamo una residenza fissa pur essendo comunque equivalenti alla popolazione residente perché di fatto almeno in teoria sono residenti che sono nella nell'ufficio comunale piuttosto che presso una qualche struttura e il discorso delle convivenze cioè abbiamo anche qui fatto l'affondo relativo alla popolazione che vive in convivenza dove convivenza giusto per chiarire non si tratta del vivere insieme diciamo la coppia che vive insieme ma convivenza vuol dire stare in una struttura le caserme gli ospedali centri di accoglienza cioè quelle strutture in cui sei siamo sotto lo stesso tetto senza essere famiglia nel senso classico ecco tutte queste informazioni sono state raccolte visualizzate naturalmente come sempre con un ampio dettaglio territoriale che arriva al livello dei comuni ci sono come sempre anche alcune curiosità di carattere comunale il comune più giovane il comune meno giovane il comune che cresce di più quello che cresce di meno cioè questi dettagli un po così folcloristici però c'è ovviamente il quadro generale della situazione nel paese e quindi consegniamo al paese appunto la questa fotografia per tutte le considerazioni e rilevi che sono necessari grazie per la vostra attenzione grazie presidente io se siete d'accordo siccome il presidente ci deve lasciare un poco prima della conclusione della conferenza stampa prima di passare ai quadri analitici e informativi maggiori anche sulla geografia della popolazione sui territori con il collega saverio gazzelloni se volete porre delle domande al presidente e vi chiederei la cortesia di farlo in questa prima fase grazie mano alzata ti sentite sì davide ti sento ok c'è carlo marroni e alessandro arona prego sì brevemente al presidente 59 milioni e poco più quindi per il 2022 scenderemo sotto 59 milioni se c'è una previsione una stima sulle nascite di quest'anno come lei già più volte l'ha detto che saremo ampiamente sotto i 400 qual è un po l'idea ad oggi e l'ultima cosa 0 5 per cento di popolazione ancora alfabeta significa in italia sono circa 300 mila persone che tuttora non sanno leggere e scrivere mi scusi questa dovrei saperla ma esattamente cosa significa ad oggi all'alfabeto grazie allora credo chiudo parto dall'ultima credo che l'analfabeto stia a significare persone che non hanno un titolo di studio che certifichi il fatto di di cioè nella classificazione ci sono diversi livelli credo che questo sia proprio l'ultimo livello quale uno che magari sa anche leggere e scrivere probabilmente in linea di massima lo sa però non ha nulla che certifichi questo tipo di situazione per quanto riguarda invece il discorso della natalità è presumibile che il bilancio del 22 sia ancora negativo è inutile illudersi questo perché il saldo naturale anche nel 22 sarà decisamente negativo e quindi probabilmente il migratorio per quanto sarà positivo però non riesce a compensare pienamente le cose noi abbiamo i dati e sono consultabili da parte di tutti fino a settembre i dati mensili provvisorie naturalmente però sono disponibili a tutto settembre a tutto settembre se andiamo a confrontare il valore delle nascite del 22 confrontando le nascite del 21 scopriamo che siamo sotto del 2 per cento circa e anzi ci siamo raddrizzati un pochino negli ultimi due tre mesi perché prima stavamo molto al di sotto molto più al di sotto quindi la logica conseguenza è che se non c'è un recupero nell'ultimo trimestre presumibilmente il dato 22 sarà inferiore rispetto al dato 21 magari non di tanto però come ha visto siamo riusciti a ricostruire recuperando qualche nato il valore dei 400 mila provvisorio era 399 mila siamo a 400 mila per il 21 verosimilmente nel 22 non ce la faremo a stare a 400 mila quindi saremo nuovamente al di sotto e ancora una volta avremo stabilito un nuovo record nella storia d'Italia Alessandro prego sì buongiorno presidente Alessandro Arona Radio 24 è un'integrazione della domanda sul 2022 ecco abbiamo visto che il 2021 è stato un anno ancora fortemente condizionato dal covid come scrivete sia come mortalità sia sugli effetti indiretti del covid sulla crisi economica le nascite eccetera volevo capire se dai dati che avete il 2022 è un anno come dire che si normalizza si confermano le tendenze di fondo ma queste accentuazioni dovute al covid sono rientrate oppure è ancora un anno che risente in parte dell'effetto della pandemia allora diciamo che in un certo senso continua una tendenza che è partita da prima nel senso che si arriva a prendere le nascite dal 2008 in poi scopre che i punti si dispongono lungo una linea retta sostanzialmente che continua a diminuire in quella linea retta vanno a confluire due elementi una tendenza di fondo legata a una serie di fattori su cui adesso non stiamo a perderci e poi ci sono soprattutto nella nel nel fine 20 e nel 21 c'è l'effetto congiunturale chiamiamolo così in cui la pandemia e quindi i rinvii rispetto ai concepimenti legati alla pandemia in qualche modo condizionano poi il risultato finale allora io credo che nel 22 proseguiamo lungo la tendenza regressiva quindi quella che c'era anche prima forse una qualche coda legata all'incertezza derivante dalla pandemia non dimentichiamo che si è aggiunto poi l'inflazione la guerra tutte queste cose che fanno incertezza e quindi a meno che uno non sia nella condizione del mi serve voglio fare il primo figlio ormai c'ho 45 anni ora o mai più c'è un attimo di stiamo a vedere ed è lo stiamo a vedere che in qualche modo ha spiegato le variazioni nel passato soprattutto per esempio la componente straniera che è più giovane può permettersi di aspettare un pochettino di più e anche per certi versi un po' più in difficoltà dal punto di vista economico legata alla pandemia e a quel che è seguito quindi questo tipo di comportamenti di atteggiamento magari sia un po' attenuato però non penso sia scomparso definitivamente quindi alla fine dei conti il finale sarà sarà probabilmente quello quello che è positivo nel 22 è il profilo mortalità cioè rispetto a alla botta del 20 e del 21 non è che siamo tornati a prima però insomma in qualche modo le cose si stanno riallineando a livelli di mortalità compatibili con il processo di invecchiamento della popolazione se ci sono altre domande le coglierei in questa fase come dicevo perché poi il presidente deve prendere un treno nel frattempo vi do una comunicazione di servizio che è questa la conferenza stampa viene registrata e troverete il link che rimanda alla registrazione audio a beneficio in particolare delle radio sul sito dove abbiamo pubblicato il rapporto questa mattina per chi volesse appunto utilizzare delle dei brani della della conferenza stampa se non ci sono altre domande io passerei invece allora la parola a Savero Gazzelloni che è il direttore centrale per la statistica demografica dei censimenti per illustrarci un po un quadro di insieme di come cambia anche la geografia della popolazione perché abbiamo tra oltre i dati aggregati naturalmente la forza informativa del censimento è che ci consente di cogliere a livello comunale quello che sta succedendo e sentiamo che che quadro ci offre Saverio prego grazie davide sì io in linea con quanto anticipato il presidente vado appena un po di più nel dettaglio non tantissimo perché poi il dettaglio censuario è molto spinto come sapete l'obiettivo principale primario del censimento è arrivare a dare dati affidabili a livello comunale perché poi i dati di popolazione a livello comunale come sapete hanno delle ricadute molto importanti in termini proprio di flussi finanziari adesso il primo provvedimento che viene subito collegato alla diffusione dei dati di oggi è l'emanazione del fondo di solidarietà poi ci sarà la spesa sanitaria regionale via dicendo quindi il dettaglio che noi dobbiamo curare con la massima attenzione con la massima qualità del dato è quello comunale ovviamente oggi non scenderò a livello comunale solo per dire che appunto il calo di popolazione è continuo dal 2015 quindi è un trend molto strutturale fino a 14 era salita la popolazione dal 2015 comincia invece a calare e il censimento certifica questo calo non soltanto sulla base dei flussi anagrafici ma come sapete il censimento anzi deve proprio correggere i flussi anagrafici proprio perché interviene sul territorio con questa metodologia che stiamo in qualche modo consolidando sempre di più che è quella di sfruttare al massimo le informazioni che i cittadini in qualche modo hanno già fornito quindi noi per arrivare a determinare l'ammontare preciso di popolazione oltre all'utilizzo di metodi statistici basiamo soprattutto questo calcolo sull'integrazione di dati amministrativi che sono informazioni che i cittadini hanno già fornito allo stato in varie e in varie forme e in varie canali quindi il calo della popolazione è un composito di un calo che si registra nei flussi demografici che ci vengono certificati dai comuni più la correzione che il censimento fa a questi flussi perché appunto interviene su informazioni che non sono di natura anagrafica ma vanno proprio a correggere quello che in teoria sarebbe l'errore anagrafico questo è diciamo un po il quadro il quadro generale come diceva il presidente decremento è stato importante abbiamo 206 mila persone in meno però posso dire che questo decremento ha interessato un po meno il mezzogiorno e soprattutto un po meno i piccoli comuni quindi comuni da 5.000 a 20.000 abitanti e quelli ancora più piccoli fino a 5.000 abitanti che come è noto rappresentano la stragrande maggioranza al 70% e passa dei comuni italiani non hanno fatto registrare decrementi molto importanti però il calo è praticamente concentrato quasi nei 39 comuni più grandi perché già lì si perdono 115 mila residenti pochi nati più morti e con un impatto diciamo covid ancora non del tutto sparito nel 2021 come ricorderete in altre occasioni quando davamo l'andamento della mortalità giornaliera noi abbiamo sempre stimato in un certo senso l'eccesso di mortalità facendo un confronto diretto con quella che era la media di quattro anni dal 2015 al 2019 questo eccesso di mortalità rimane ancora diciamo significativo nel 2021 ma si attesta all'8 e 6 per cento nel 2020 era era molto molto più alto c'è un calo c'è una parte del calo spiegata anche dalla componente straniera noi sugli stranieri come accennava il presidente facciamo degli approfondimenti non soltanto con i flussi demografici ma appunto anche con le indicazioni che ci vengono dai segnali di presenza sul territorio quindi quest'anno abbiamo 141 mila stranieri in meno che è diciamo una sintesi di un calo di 41 mila stranieri in meno registrati nell'ambito dei flussi demografici e di 100 mila stranieri in meno che risultano invece dalle operazioni nelle operazioni censuali un aspetto strutturale quanto il calo che poi strettamente connesso è il progressivo invecchiamento della popolazione l'età media si è alzata dal 2011 di tre anni che è tantissimo per una popolazione del suo complesso abbiamo sempre le solite regioni la campania la più giovane la liguria la più anziana ma abbiamo appunto tutti gli indici che riguardano l'invecchiamento della popolazione che danno un quadro sempre più strutturato su questa popolazione anziana nel 2021 per ogni bambino di 0 6 anni abbiamo 5,4 anziani questo per darvi proprio un'idea abbiamo messo un grafico che è molto immediato per per far vedere il processo di invecchiamento è vero che la componente straniera supporta un po di più questo problema nel senso che l'età media degli stranieri è più bassa ma anche nella popolazione straniera ci sono segnali che vanno nella direzione di una progressiva come dire identità quasi della componente straniera con quella italiana ancora siamo lontani ma alcuni segnali ci dicono che anche la componente straniera nella distribuzione per età nella natalità eccetera eccetera si sta adeguando sempre di più a quelli che sono i comportamenti della popolazione italiana il flash sui titoli di studio sì noi abbiamo appunto la distinzione precisa tra quelli che sono gli analfabeti in senso stretto e quelli che invece sono alfabeti cioè che sanno leggere e scrivere ma non hanno nessun titolo comunque abbiamo diciamo un calo di questa componente che è strettamente legata alla struttura per età cioè ovviamente più le corti anziani anziane scusate escono dal collettivo per morte e più diminuiscono le persone che hanno questa situazione di non titolo di studio di incapacità a legge e a scrivere di contro proprio sempre per un effetto combinato sia della progressione delle corti nel tempo sia diciamo della progressiva scolarizzazione nel corso dei decenni abbiamo una crescita molto significativa sui titoli medio alti per cui nell'arco di dieci anni le medie superiori registrano cinque punti di aumento così come la laurea registra circa quattro punti di aumento quindi dal punto di vista della struttura della popolazione per titolo di studio anche qui abbiamo un trend assolutamente consolidato che va appunto in questa direzione per venire diciamo a qualche particolare in più rispetto a quella cosa che vi ha detto il presidente sulle popolazioni particolari noi le abbiamo chiamate popolazioni difficili da raggiungere che sono le popolazioni speciali che si chiamavano così nel precedente censimento sono praticamente quelle persone che contribuiscono all'ammontare totale della popolazione usualmente dimorante sul territorio italiano però appunto quando noi diamo il totale della popolazione dobbiamo distinguere la popolazione che è residente in famiglia dalla popolazione che è fuori dalla famiglia e fuori dalla famiglia appunto ripeto c'è quella parte di popolazione che risiede nelle convivenze negli istituti nelle caserme nelle istituzioni ecclesiastiche eccetera eccetera ci stanno le persone senza tetto e quelle senza fissa dimora che sono due aggregati diversi e poi ci stanno le persone che risiedono in campi autorizzati o tollerati o spontanei questo è un totale di popolazione che ammonta circa 463 mila persone che se non ricordo male circa lo 0 8 per cento della popolazione e sono distribuiti sostanzialmente per la stragrande maggioranza nelle convivenze nelle convivenze soprattutto al nord il nord con le convivenze copre quasi il 60 per cento 57 6 per cento del totale delle persone che vivono in convivenza mentre le persone senza tetto e senza fissa dimora sono circa 96 mila distribuite in poco più di 2 mila comuni anche se il 50 per cento di queste persone senza tetto e senza fissa dimora praticamente vengono registrate vengono individuate in soltanto sei comuni come è facile immaginare tra cui ovviamente roma che fa l'arte un po del leone seguita da milano napoli e torino interessante una concentrazione in un comune non annoverato tra le aree metropolitane qual è il comune di foggia dove c'è il 3,7 per cento delle persone senza tetto e senza fissa dimora c'è una concentrazione se vuoi anche un po anomala le persone le 16 mila quasi persone che vivono nei campi autorizzati tollerati o spontanei come si suol dire sono invece concentrate soltanto in 202 comuni 202 comuni che comunque appunto vedono come al solito ovviamente la preminenza dei dei comuni più grandi roma 16 per cento milano 5 per cento e reggio emilia il 4,5 per cento diamo questi dati come approfondimento annuale l'anno scorso se ricordate sul 2020 avevamo dato un approfondimento sui borghi più belli d'italia quest'anno diamo questo sulle convivenze questo sulle convivenze è un dato strutturale che noi porteremo avanti di anno in anno perché è un approfondimento che ci interessa molto abbiamo previsto anche nelle future edizioni del censimento degli approfondimenti ad hoc sulle persone senza tetto e senza fissa dimora da realizzare anche con metodologie diverse e mirate su questi gruppi di popolazione più difficili da raggiungere ovviamente poi dentro le convivenze per esempio ci sono distribuzioni molto interessanti per tipologia di popolazione che ci risiede età media sesso e via dicendo sono tutti quanti particolari che comunque nella nota di accompagnamento sono tutti quanti esplicitati ecco tenete conto colleghi che questo tipo di rilevazione su queste popolazioni speciali nel sistema statistico europeo vede l'istat in una posizione piuttosto di frontiera per cui è un esercizio statistico ufficiale di rilievo anche per le complicazioni metodologiche e di raccolta di questi dati che ci stanno che stanno dietro quindi se in particolare volete fare delle domande su come si fa a fare questo tipo di conto delle persone senza fissa dimora e in queste condizioni speciali siamo qui per quello è interessante anche il dato sulla numerosità di coloro che stanno in strutture per anziani perché circa un terzo no di quell'insieme delle tre popolazioni sono anziani che evidentemente appunto sono in rsa un altro dato della di curiosità di questa presentazione di oggi che coincide quasi con la conclusione della della tornata censuaria sulla anno 20 22 saverio è disponibile naturalmente anche a raccontarvi come sta andando e quanto quando si chiude e che esito potremmo potremmo dare ma una novità ulteriore che ci teniamo a comunicare abbiamo fatto un calcolo su come il censimento permanente diventa ecologico rispetto al vecchio censimento generale decennale che si faceva mandando a tutte le famiglie residenti un questionario cartaceo manderemo un comunicato subito dopo la conferenza stampa ma vi dico solo il titolo sostanzialmente secondo i calcoli che abbiamo fatto c'è una riduzione di oltre il 90 per cento delle emissioni di co2 e il consumo di acqua collegato all'intera operazione censuaria sviluppata in dieci anni di censimento permanente rispetto a un singolo censimento generale della popolazione diciamo vecchio stile ci sono grandi paesi europei come la germania che ancora fanno censimenti generali vecchio stile e quindi anche da questo punto di vista cioè della sostenibilità ambientale di questo lavoro di produzione dell'istituto abbiamo ritenuto di fare una ulteriore informazione se volete fare domande è il momento giusto abbiamo appunto saverio gazelloni gerardo gallo che è il capo servizio che si dedica appunto ai censimenti ci sono una quantità di informazioni che possono essere estratte da questo da questo comunicato veramente ampia io ne ho vista solo una per dire c'è una mi ha colpito molto sull'invecchiamento c'è un indice di vecchiaia in liguria che pressoché doppio rispetto a quello di bolzano per dire come il paese non solamente sta invecchiando ma sta allargando dei divari appunto di di struttura di popolazione che sono veramente significativi se ci sono domande è il momento giusto grazie prego valerie prego forse alzato la mano involontariamente no però beh eri se ci senti la mano alzata e puoi fare la domanda che ritieni non ti sentiamo forse intanto che aspettiamo qualche domanda saverio possiamo dire qualcosa sul censimento in corso a che punto dell'operazione sì molto semplicemente il censimento permanente viene svolto negli ultimi tre mesi dell'anno a tutta una fase di preparazione organizzativa con i comuni molto ampia però poi le operazioni di campo vengono svolte nell'ultima parte dell'anno anche per richiamare un pochino il calcolo sul risparmio diciamo in termini di carta e di acqua tutto il censimento viene viene fatto praticamente con strumenti informatici non esistono più i questionari cartacei quindi appena partono le operazioni censuarie i rispondenti possono rispondere solamente via internet ovviamente come sapete non tutta la popolazione è raggiungibile via internet quindi dopo un certo periodo iniziano le attività dei rilevatori comunali che vanno direttamente nelle case con l'accortezza questo è un grande vantaggio che mentre i rilevatori vanno presso le case la compilazione via internet continua ad essere disponibile quindi questo è un modo per massimizzare quello che noi chiamiamo il tasso di risposta con buoni risultati e adesso quest'anno siamo sul campo oggi siamo arrivati a più del 75% delle risposte le operazioni termineranno poco prima di Natale e quindi andremo avanti diciamo in continuità con gli anni scorsi rispetto appunto all'esperienza italiana che richiamava un pochino Davide mi faceva piacere ricordare che tutti gli altri paesi europei hanno effettuato un censimento tradizionale quantomeno nella sua cadenza temporale perché poi alcuni hanno fatto delle importanti innovazioni la Spagna ha fatto un primo censimento completamente basato sui dati amministrativi cosa che noi non facciamo non perché non possiamo ma perché non siamo proprio convinti di questa impostazione però alcune innovazioni ci sono state però invece rispetto alla temporalità fa piacere sottolineare forse questa è anche una notizia che può dar piacere che l'Italia è l'unico paese che sta facendo il censimento continuo ormai già da quattro anni l'Europa noi seguiamo ovviamente tutti i lavori della Commissione e della sua direzione statistica Eurostat prevede questo tipo di impostazione a partire dal 2025-2026 cioè è in approvazione un regolamento che alla fine obbligherà tutti i paesi a fare la stessa cosa noi siamo guardati come un paese all'avanguardia perché lo stiamo facendo dal 2018 quindi abbiamo molto anticipato l'impostazione che vede appunto l'opportunità di effettuare il censimento ogni anno per moltissimi motivi che erano soprattutto quelli che ricordavo anche all'inizio cioè per moltissimi aspetti della vita sociale, economica, amministrativa del paese il fatto di avere dati aggiornati ogni anno è una cosa assolutamente importante grazie Saverio se ci sono domande io vi invito a farle perché effettivamente il materiale è molto significativo ricordo solo per dire di statistiche demografiche e di popolazione che quest'anno abbiamo anche introdotto questa sperimentale sulle proiezioni di popolazione a livello comunale quindi diciamo la proiezione ISTAT sulla popolazione al 2070 a questo punto può essere letta anche a livello di singolo comune io vedo sempre una mano alzata ma non capisco se la collega che la tiene alzata non riesce ad accendere il microfono oppure se è un problema proprio di Valéry Second no, non ci sono quindi probabilmente è una cosa bene se ritenete non ci sono altre domande noi possiamo anche congedarci diciamo ok bene allora io ringrazio voi tutti che siete che se avete partecipato ringrazio i colleghi il comunicato è pubblicato da questa mattina come dicevo prima adesso rilasciamo una breve nota stampa ma appunto per dare anche conto di questo censimento sostenibile e ringrazio tutti e cogliamo l'occasione per fare a tutti voi un augurio di buon Natale di fine anno grazie e arrivederci a tutti arrivederci arrivederci grazie 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 a tutti